mmm se voi andate su fine living potreste vedere a tavola con gai programmare reti show di un tizio che va a mangiare un botto di roba beh in alcuni episodi sto per preparare la nostra marinata per le costine cosa salsa di soia questa voce mi fa migliare molto zucchero del mirin fino al giapponese per cucinare